Sono vent'anni che non li sentiamo nemmeno, effettivamente sono volati in un attimo, Ship to Shore è sempre giovane anche se è rinnovato recentemente, per cui grande augurio e viva i vent'anni di Ship to Shore. Vent'anni fa era una cosa molto molto anticipata, oggi diciamo che siamo sicuramente in una situazione dove il giornale ha raggiunto una capacità e anche una professionalità tale che lo possiamo considerare assolutamente il numero uno nel settore dei trasporti. Soprattutto dopo l'esperienza del Covid abbiamo avuto tanti problemi in questo senso, per cui è essenziale e importantissimo avere questi incontri, avere queste riunioni anche nel settore nostro che è un settore molto particolare. Grazie a tutti.